E adesso tutti pronti per l'ultima giornata. Si rimette in pari con se stesso il girone pugliese del campionato di 16 gol di palacanestro, completati nei giorni scorsi tutti i recuperi, ora il torneo entra nel rush finale della prima fase. In testa a 16 punti intanto c'è la coppia composta da Mola New Basket 2012 e Virtus Molfetta che si aggiudicano entrambe gli scontri diretti con basket corato, condizionato alla lunga dal Tour de Force delle ultime due settimane. Emblematico l'andamento delle due sfide che le battistrada portano a casa accelerando nel finale di gara. Clamorosa la rimonta di Mola a Corato, meno 20 a 13 minuti dalla fine ma è 65 a 62 per i ragazzi di coach Castellito al definitivo suono di sirena. Parziale conclusivo fatale anche a Molfetta in particolare gli ultimi 120 secondi che consegnano il successo alla Virtus, vittoriosa su basket corato per 76 a 72. Con quella di Molfetta fanno tre K.O. negli ultimi tre recuperi per i coratini, battuti pure nella trasferta di Monteroni per 65 a 59. Il bilancio ad un turno dalla fine di 12 punti in 11 gare, compresi due conquistati sabato scorso nella stracittadina contro Nuova Matteotti vinta per 79 a 71 a sua volta. Nuova palacanestro Monteroni rimedia due sconfitte in trasferta a Molfetta per 100 a 77 a Bari per 69 a 61. Ed ora l'ultimo giro con Mola che attende, Libertas Altamura, Virtus Molfetta di scena a Monteroni e Basket Corato contro Adria Bari riposa. Nuova Matteotti Corato che ha chiuso a 6 punti la prima fase. Le squadre dal primo al quarto posto accederanno alla girone promozione che allo Stato toccherebbe a Mola, Molfetta, Basket Corato e Altamura. Le compagini che chiuderanno fra quinto e settimo posto invece parteciperanno al raggruppamento retrocessione. Gare di sola andata per tutte e ripartenza dei punti conquistati con le squadre partecipanti allo stesso girone.